Buongiorno, benvenuto alla nuova conferenza stampa dell'ICAS di presentazione di una nuova bella mostra iniziativa che abbiamo patrocinato. L'ICAS è un intergruppo parlamentare trasversale in attesa che si insedi il nuovo Parlamento, la nuova Camera dei Deputati e continua le sue attività di promozione culturale. Questa volta è un ritorno rispetto a una mostra che portammo anche qui a Palazzo Valdina, alla Camera dei Deputati, nel bellissimo chiostro nella sala del Cenacolo e Anna Cerofolini che abbiamo voluto seguire in questo suo percorso artistico che ora l'ha portata nella bellissima galleria cornice della Biblioteca Angelica a Piazza Sant'Agostino che è sempre una struttura del MIC e del Ministero della Cultura e la prima biblioteca pubblica aperta che ha su Piazza Sant'Agostino una bellissima galleria per l'arte contemporanea. Abbiamo qui accanto a me Anna, è un'artista molto brava, non solo artista ritrattista, autore e direttore creativo di opere audiovisive e campagne pubblicitarie, quindi un estro a tutto tondo. La mostra si chiamerà appunto Tappezzeria Chiassosa e sarà dal 3 al 9 ottobre alla Galleria Angelica in Piazza di Sant'Agostino. È una personale e passo subito la parola ad Anna per raccontarci questo nuovo progetto artistico e soprattutto a cominciare dal titolo che appunto può trarre l'inganno ma come sempre fa l'arte che usa concetti fuori contesto serve anche a incuriosire. Anna Cerofolini. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Questa è una mostra che arriva da Milano, è stata lavorata e presentata a giugno allo Scalo Lambrate che è uno spazio che il Comune gestisce, un ex Scalo Ferroviario e quando io ho visto quello spazio ho iniziato a pensare a lavorarci sopra ho immaginato che queste pareti come spesso capita che ospitano i ritratti in qualche modo siano delle pareti fatti di parole perché poi la mia idea soprattutto delle immagini, dei quadri è sempre un'idea a tutto tondo nel senso che i ritratti a mio avviso parlano, ci raccontano delle cose e soprattutto fanno in modo di smuovere dentro noi dei sentimenti, delle riflessioni. Io immagino che se noi ci poniamo di fronte a un ritratto la capacità di quegli occhi di scrutare all'interno di noi ci fa porre delle domande e spesso come mi è capitato di riflettere non ci trova del tutto innocenti, diciamo, ci anima dentro delle riflessioni profonde. Quindi dopo averla portata a Milano mi ha fatto piacere trovare uno spazio che fosse adatto a dare respiro alle tele e credo che la Galleria Angelica sia con questo verticale bianco, insomma il luogo più idoneo. Tappezzeria Chiassosa viene da Cotazzarra e parte proprio da una riflessione sull'arte che questo poeta, scrittore fa spesso, ha fatto spesso e che lo faceva proprio in curiosità, gli rendeva curiosità il fatto di sentire un vociare, un vociare che potesse arrivare dalla pittura e ho sempre trovata una cosa estremamente interessante. Sì, Tappezzeria Chiassosa tra l'altro esprime un concetto che è quello della ferie, della festa mobile, è come se i pittori, gli artisti, gli scrittori e i filosofi dialogassero tra loro non più legati dai piani dimensionali del tempo, una sorta di luogo unico, di unico mondo. Devo dire che la tecnica di Anna Cerufolini è molto suggestiva, molto caratterizzata e carismatica e ha questa particolarità, e volevo chiederti su questo appunto una descrizione più approfondita, di non esprimersi solo attraverso gli occhi, che sono, come si sa, la parte più significante dell'anima, ma di riuscire a inserire in molti quadri anche il diorama, l'immaginario di quell'artista, di quello scrittore, di quel filosofo. Come nasce questa intuizione? Allora, in realtà nasce dal fatto che io sono una bulimica della lettura e che disegno da sempre, da quando ho memoria. Per cui queste cose si sono unite e scegliere i volti di pensatori di ogni epoca ha fatto sì che potessi realizzare sulla tela anche quello che loro hanno dentro, ma spesso anche tentare di realizzare quello che loro hanno creato dentro di me, nel leggerli o nell'osservarli. Oppure, se magari capita a qualcuno, appunto la mostra, quello che hanno creato dentro questo osservatore casuale. Mi piace tantissimo non lavorare su correnti, ma lavorare su menti libere. E questo è fondamentale per me. Per cui si possono trovare, da Nureyev, per dire in questo caso, a Pina Bausch, oppure ha soltanto idee, non ritratti di personaggi specifici. Ad esempio c'è la tela che dà la locandina alla mostra, che personifica un po' la mostra, e che è questa donna, è una donna di Toulouse-Lautrec. E che non è una donna di Toulouse-Lautrec, nel senso che non è una donna che lui ha ritratto, però è una donna che secondo me in questa epoca rappresenta perfettamente Toulouse-Lautrec per tutta la sua poetica. Per cui mi piace mescolare elementi che poi rendono il tutto un nuovo mondo, un nuovo elemento a cui puoi guardare e in cui puoi ritrovare quello che vive dentro di te. Devo dire che appunto questo si percepisce dalle tue tele e anche dalla capacità, devo dire, artistica di dipingerle, perché sono veramente... c'è una tecnica molto personale, molto originale. Ma in questa mostra vuoi dirci un po' quali saranno i personaggi esposti, rappresentati? Allora, ci sarà Samuel Beckett che vediamo, esatto. Questo è un ritratto di Nureyev che ha dentro una principessa di Vrubel. Vrubel è un pittore russo che io trovo... Quindi anche contaminazioni tra pittori... Sì, e questo è un ritorno in qualche modo nella mia poetica di Nureyev a Mosca, cosa che gli è stato impedito in vita con grande sofferenza e che in qualche modo ha anche scelto a un certo punto. Questa invece è la donna di Toulouse-Lautrec, che come dicevo lo ricorda secondo me, soprattutto nei colori e nella scelta dei movimenti. Poi ci sarà un'opera che è un'opera diversa per quelli che sono i miei standard, però è un'opera che si è creata da sola e si è unita a questo percorso. È un'interpretazione di Lazzaro. È un'opera che ha quindi una tematica totalmente diversa da quelle che sono le mie tematiche normali, ma che a mio avviso in questo momento si parlava bene con gli altri elementi presenti. Quindi mi raccomando a cominciare da oggi, dal 3, alla Galleria Angelica in Piazza Sant'Agostino, tappezzeria chiassosa di Anna Cerofolini. Vi aspettiamo, perché è veramente una bella mostra, una brava artista e bisogna sostenere i bravi artisti sempre e comunque. L'ICAS cerca di farlo anche portandoli qui, alla Camera dei Deputati, per dargli centralità, istituzionalità e per metterli anche in evidenza. Grazie ancora e alla prossima iniziativa dell'ICAS. Grazie davvero.